I artisti non sono quelli della tv, non sono come li credi tu, non fanno tutto per loro, non vanno a cena con i giornalisti, fanno di tutto per stare nascosti e per non essere visti, pieni di pensieri, qualche successo farne avere, sospesi in aria sempre con niente in tasca, dietro una bella idea che nasca, il resto offrono e non aspettano il resto. C'è la classifica ma non viene per prima, non hanno capelli, non hanno codini, non hanno la gelatina, e nemmeno lo sposo. I pensi ad un animato profondo. Ma gira qua e porta la pagina, che cosa fa tutto quel grano che macina, che macina, come macina. E buttala e cerca la tecnica, che va, che va, vedrai che diventi una macchina, e che macchina. Guarda che storie, poveracci, non sono grandi e più vanno per scacci, amici pronti ed altruisti, i veri artisti. Gli artisti non sono come nei mass media, non sanno cosa è l'invidia, anzi chiedono scusa, sono io, raccomandati alla musa. Geniali, intensi e molto meno furbi, stelle e i cerchi si fanno trovare, altrimenti non danno disturbi, capricciosi matti, forse, insicuri o distratti. Si incontrano spesso ad un orario clock, preparano il pelo a rock, convinti operai. Altro che? Dovi copri, copri, ride. Se donne poi tenaci, peggio di un mulo, non correggono il naso, non rifanno la bocca, non si ritoccano il... Liffi, liffi, e gira qua, e strappa la pagina, che gola fa, tutto quel grano che è macinato, che è macinato. Ah, e se immaginato. E buttala, e smuota la tannica, si fa, si fa, vedrai che si riempie la manica, la manica. Guarda che vita irregolare, di notte e ferre, di giorno male, e maledetti qualunque stile, di veri artisti. La, 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 la Sì, 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 sì. Finito.